Attraverso il Consorzio Innova Energia, promosso dalla Confesarcenti, è possibile per tutti i soci aderire a un'opportunità molto interessante, andando a risparmiare da subito sui costi di energia e gas. È sufficiente inviare una bolletta completa alla responsabile del settore ambiente, Manuela Concas, alla mail m.concas.comfpd.it Sono Enrico Schiavon, sono titolare dell'edicola omonima a Creazzo, a Vicenza. Sono venuto a conoscenza del Consorzio Innova Energia tramite la Confesarcenti, una serata organizzata qua alla Confesarcenti. Da gennaio 2018 di quest'anno ho aderito a questo Consorzio, faccio il confronto con le fatture dell'anno scorso e vedo che questa differenza c'è. Incide mediamente 25-30% in meno rispetto a quello che pagavo l'anno scorso.